Prima di piglieppo, cagno quartiero, staros, foto piglieppo, lasso, vabbè, oggi così, ragazzi, capello sconvolto, benvenuti in un nuovo minuto al giorno, capello sconvolto alla luce fa ribrezzo, qui si deve aggiustare, ah ecco, qui si deve aggiustare, qui tutto qua dietro, dietro alla parte dello studio, siamo nel soggiorno, Ragazzi, mi devo fare sì un po' di sistemazione, barba, sopracciglia, vabbè, faremo, nel frattempo che sono alle chat, devo fare un po' di sistemazione, ah ok, mi farò ricrescere i capelli, ma non me li farò ricrescere brutti come l'altra volta, me li farò ricrescere e poi farò qualcosa di nuovo, Non so, avevo pensato a farli belli, voluminuti e ricci, non so, voglio di cambiare, voglio di cambiamento, penso proprio di sì, di sì, li porto un po' tutti sconvolti, questo è il periodo del capello sconvolto